Ora che abbiamo sfondato le linee Zilov, nulla può fermare l'avanzata dell'armata verso Berlino. Ogni giorno che passa, noi ci addentriamo nel territorio tedesco. Ogni giorno che passa, la paura e la disperazione erodono la loro volontà. Quando finalmente arriveremo a Berlino, loro non avranno alcun rifugio. E' in piedi! Il compleanno del Führer? Una batteria di ranzi catiuscia devasterà Berlino! Con i proiettili, le maionette e a mani nude! Voi farete la stessa cosa, ma in colpa! Non fermatevi! Avanzatevi! Non fermatevi! Usatevi come riparo! Viva presto! Quei lacchi sono dappertutto! Per pulire le onghe di piccoli! Avanzatevi! 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 No! 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 Avanti, compagni! Da questa parte, dentro l'edificio! Di sopra! Sergente! Ci sono superstici! Questi animali hanno violentato e predato la nostra madre patria senza pietà! Muovete, guaiate! Guardateci in faccia, codate! Noi! Bitte! Vi gimme uns! Bitte! Bitte! Ich bitte Sie! Come possiamo avanzare? Ah! Dalla farza pronta c'è! Dalla farza pronta! C'è quasi un Risorgonistica! Dalla farza pronta! Oggi dovrai esfulle! Dalla farza pronta caisse? Ma guardate! Dalla farza pronta! Sai dalla scena! Ci sono stati spaventata! Sfai seguire i suoi. Dalla farza! C'è un po' di fronte! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Da questa parte, di sopra! Dovremmo combattere a distanza ravvicinata. Dimitri, prendi un fucile a pompa! Fatemi andare presto! Shhh! Sentito qualcosa? No. Ecco perché sono sospettoso. Muovetevi con cautela, compagni. Perfetto! 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 Siamo le loro armi contro di loro! Sul tetto! Uccidetevi tutti! Presto, capritemi! Dimitri, usa quella mitragliatrice! Usiamo le loro armi concediti! Vente sul tetto! Uccidetevi tutti! Uccidetevi tutti! Sì, sì, sì! Grazie. 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 Abandonate ogni esperanza! Hurra! Hurra!